Scarpe da ginnastica, sole, musica, tanto tanto fitness sono gli ingredienti della due giorni dedicata all'aerobica e allo step a Piazza Darmi, all'Aquila, grazie al masterclass gratuito messo in campo da Cruisin, dall'istruttore aquilano Andrea Trionfi, con il patrocino del Comune. La collaborazione tra me e la Cruisin nasce proprio dopo il terremoto del 2009, quando questa azienda di fitness mi contattò per dare una mano alle palestre dell'Aquila, da quel momento è nata una collaborazione e siamo contenti adesso di poter fare questo evento gratuito e di regalarlo alla città dell'Aquila, perché è un onore avere innanzitutto dei presenter internazionali. Tre anni fa, quando sono venuto qui, dopo il terremoto che c'è stato in Emilia, ho promesso ad alcuni istruttori dell'Aquila che saremmo ritornati e avremmo organizzato qualcosa di importante per l'Aquila, per ricordare qualcosa che ci unisce, che viene dalla nostra.